Per Mirko e Valentina l'anno non poteva che scominciare e anche a festeggiare la neve alla prima fia Camilla s'assonata l'ultima ruota. Matteo Pederiva, prima laddina del 2014. A Pederiva, l'ultima nascuta del 2013, fu a Mingola in Irà per essere l'ultima di Coscrici. Matteo ha fatto prima vada da mezzo alle dode ai due decenni dell'ospedale dei Ciavalli e non c'è il festeggiare di essere il primo laddino, il segotto in pace e il prigio a tecuna. Matteo era una responsabilità di essere il primo laddino nel suo, quando era portato davanti il nome dei laddini? Si, quanto in esso, l'onore, vincere di chi la soraga. Momento di festa per amici e famiglia, tanto per i giochi che per i Giaves. Alessandro e Fernanda che per se godere e se petolare c'è l'ultima ruota. Emozioni da genitori, da pari o da Giaves? Eh, io direi perché la Giaves, io direi perché è possibile, sì. Più emozionare? Sì, sì, sì. È perché non sei a tempo, nella vita. Nella vita non sei mai so da fare. Adesso. Sì, sì.